Capitolo 26 In un batter d'occhio, luglio divenne agosto. L'estate passava molto più in fretta quando avevi qualcuno con cui trascorrerla. Nel mio caso si trattava di Cam. Cam Cameron. Il signor Fisher veniva sempre la prima settimana d'agosto. Portava a Susanna regali dalla città, biscotti alle mandorle e cioccolatini aromatizzati alla lavanda. E dei fiori. Portava sempre dei fiori. Susanna amava i fiori. Sosteneva di averne bisogno come dell'aria. Aveva una quantità infinita di vasi. Quelli alti, quelli larghi, quelli di vetro. Erano sparsi per tutta la casa e ogni stanza aveva il proprio vaso. I suoi fiori preferiti erano le peonie. Le teneva sul davanzale di camera sua, perciò, erano la prima cosa che vedeva al mattino. Amava anche le conchiglie. Le teneva in calici da long drink. Quando rientrava da una passeggiata sulla spiaggia, aveva sempre una manciata di conchiglie. Le disponeva sul tavolo della cucina, poi le ammirava dicendo cose come «questa qua non sembra un orecchio» o «questa non è di un rosa perfetto». Infine le metteva in ordine dalla più grande alla più piccola. Era uno dei suoi rituali, che io amavo osservare. Quella settimana, più o meno nei giorni in cui di solito arrivava il signor Fisher, Susanna accennò che il marito non sarebbe riuscito ad assentarsi dal lavoro. Alla banca c'era stata una sorta di emergenza. A concludere l'estate saremmo stati solo noi cinque. Quella sarebbe stata la prima estate senza il signor Fisher e mio fratello. Dopo che Susanna fu andata a letto di buon'ora, Conrad mi disse in modo informale. «Stanno divorziando?» «Chi?» «I miei genitori, è solo questione di tempo». Jeremiah gli lanciò un'occhiataccia. «Taci, Conrad». Conrad si strinse nelle spalle. «Perché? Sai anche tu che è la verità. Belli non è sorpresa, giusto Belli?» E invece lo ero. Risposi rivolta a entrambi. Mi parevano innamorati. Qualsiasi cosa fosse l'amore, ero certa che tra loro due ci fosse. Pensavo che ne avessero in abbondanza. Dal modo in cui si guardavano al tavolo da pranzo, dall'entusiasmo che dimostrava Susanna quando arrivava il marito, non credevo che persone del genere potessero divorziare. Potevano divorziare i miei genitori, non Susanna e il signor Fisher. «Erano innamorati», rispose Jeremiah. «Non so davvero cosa sia successo». «Papà è una testa di cazzo, ecco cos'è successo», replicò Conrad alzandosi in piedi. Si mostrava disincantato e realistico. La cosa però non mi quadrava, visto che sapevo quanto Conrad adorasse suo papà. Mi domandai se il signor Fisher avesse una nuova fidanzata come mio padre. Mi domandai se avesse tradito Susanna. «Ma chi avrebbe mai tradito Susanna? Era impossibile!» «Non dire a tua mamma che lo sai», disse d'un tratto Jeremiah. «Mamma non sa che lo sappiamo». «D'accordo», risposi io. Mi chiesi come lo avessero scoperto. I miei genitori avevano fatto sedere me e Steven e ci avevano raccontato tutto quanto, spiegandocelo in dettaglio. Quando Conrad se ne fu andato, Jeremiah mi confidò. «Prima che venissimo qua, nostro padre ha dormito nella stanza degli ospiti per settimane. Ha già portato via gran parte dei suoi vestiti. Come hanno potuto seriamente pensare che non ce ne saremmo accorti?» Mentre pronunciava le ultime parole. La sua voce si incrinò. Io gli afferrai la mano e gliela strinsi. Soffriva molto. Forse anche Conrad soffriva, nonostante non lo desse a vedere. E in effetti, pensandoci, tutto quadrava. Il comportamento di Conrad, così diverso e smarrito, così poco da lui, stava soffrendo. E poi c'era Susanna. Il fatto che trascorresse così tanto tempo a letto e la sua aria triste. Anche lei stava soffrendo.